E' simpatico perché noi quando dicevamo bisogna affondare i barconi, prima che partano, non si può fare sete dei pazzi, è una delle proposte che l'Italia ha mandato all'Europa. Quando dicevamo che bisogna fare i campi, questi campi di cui non si può fare, sia in Libia, sia nelle tratte da dove si sanno che partono gli immigrati, faccio esempio del Niger, che è una tratta che fanno questi immigrati, ci dicevano che non si fa sete dei matti, è la proposta che hanno fatto. Quando dicevamo che bisognava espellere i clandestini, il governo, la maggioranza, ci dava dei razzisti xenofobi, non a caso, e voglio ricordarlo, malgrado le dichiarazioni un po' strampalate evidentemente per il calo di consenso elettorale che ha il Presidente del Consiglio, il governo ha tagliato drasticamente, portando da 100 milioni di euro a 4 milioni di euro, il fondo per i rimpatri. E oggi Renzi ci viene a raccontare che quando noi dicevamo che eravamo quelli cattivi che volevano fare i rimpatri, oggi invece dice noi clandestini bisogna espellerli. Bene, intanto servono le risorse per farlo e ovviamente la volontà politica. Questa è la situazione, il quadro, la fotografia della situazione attuale, è quanto noi sosteniamo. Amamo, adesso se qualcuno si illude che la soluzione sia di portare tutta la povertà dell'Africa in Europa, o è un pazzo o è un demagogo. La verità è che l'unica politica che si possono portare avanti è quella di cercare di andare a creare un modello di sviluppo in Africa, ma in secondo luogo anche dare regole ferree e ferme con la certezza che l'immigrazione non può passare attraverso canali illegali e in Italia l'immigrazione che passa attraverso canali illegali non è accettata, perché io ricordo che non esiste soltanto quell'immigrazione che arriva tramite barconi. Io arrivo dal Friuli Venezia Giulia, area dalla quale passano due paesi europei, passano l'Ungheria e l'Austria ed entrano nel nostro paese. Cosa succede? Liberi di girare dove vogliono. Da Tarvisio, da dove passano il numero di immigrati, e la Seracchiani vende come modello geniale il modello Friuli Venezia Giulia, che è un modello invece fallimentare, passano, li mettono sul treno e dicono guardate dovete andare in prefettura Udine, che dista ovviamente da Tarvisio da dove passano gli immigrati. Questi salgono sul treno da soli, vanno, girano per la città, abbiamo delle aree delle città di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, sono assolutamente trasformate in campi profughi, faccio l'esempio di Parco Moretti, un parco nel centro di Udine dove le famiglie portavano i bambini, utilizzato, ci sono ovviamente moltissimi servizi che lo testimoniano per alloggi di immigrati, mi domando se questo è il modello che la sinistra ci sta proponendo.